E' stata rinviata a martedì prossimo la sentenza del processo per direttissima a carico di Sandro Pili, accusato di omicidio volontario per la morte della moglie Pierangela Gareffa. La tragedia si consumò nel novembre del 2014 nella loro casa in località Fortino a Vibonati, a pochi passi dall'ospedale di Sapri. All'udienza di oggi era presente l'imputato ed anche la mamma ed una delle due sorelle della vittima. Secondo il perito nominato dal giudice, Pili al momento della tragedia non era pienamente capace di intendere di volere. I legali della famiglia della vittima si sono battuti per dimostrare esattamente il contrario. Hanno richiamato l'attenzione dei giudici su alcuni episodi che si sono intercorsi nelle ore di agonia della donna. E' stato evidenziato che l'uomo avrebbe detto al figlio di dichiarare che la madre si era ferita cadendo nel giardino. E' stato anche posto in evidenza che Pili avrebbe accoltellato la moglie solo perché la stessa si è opposto alla sua volontà di trasferirsi con la famiglia in Germania, dimostrando in questo modo di trovarsi di fronte ad un uomo prepotente e da sempre violento nei confronti della sua compagna, vittima da anni di maltrattamenti fisici e psicologici. Il legale dell'imputato nel corso della sua arringa ha chiesto per Pili la semi-infermità mentale e che il reato venga convertito in omicidio preterintenzionale invece che volontario. Pierangela, dopo essere stata accoltellata, fu lasciata nel suo letto con la ferita al fegato per nove ore, al termine delle quali morì dissanguata. Solo allora il marito chiese aiuto ai vicini di casa. Al termine dell'udienza di oggi i giudici hanno aggiornato la seduta a martedì prossimo per le repliche e la sentenza. Grazie a tutti.